fatti come mandano i mettoni e cosi no 36 ora oppure i minuto come vorrei che stacca quando fanno che sono visto 36 tutti in 37 un minuto lo damos carto con l'occasione poi va non c'è lì chissà che la vera delle gambe la vita quello che muoveremo non c'è lì . . . . . . . . . ma l'essandro è la tenda ci troviamo o l'ho o l'ho che si è già abbonato il carabinario? come faccio i carabinario? avviso 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 non ci sono preoccupazioni non ci sono è rotto di cozzo